Siamo sul ponte della Cala Iunco per il terrazzo e penultimo appuntamento del Boat Party Night. Siamo qui con Paolo Miola, titolare del Queen 2.0, che ci illustrerà come si è svolta e come si sta svolgendo la serata. Questo terzo appuntamento è il terzo sold out di fila per questo evento. Più che un evento è un raccogliere insieme tutte quelle che sono le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e non. Infatti stasera abbiamo l'onore di avere a bordo l'Amaro 099, il nostro Amaro Tarantino, di avere a bordo l'Associazione Panificatori Taranto che ha presentato diversi prodotti. Noi del Queen che abbiamo presentato il nostro aperitivo e abbiamo voluto strafare. Per quanto riguarda le bevande abbiamo voluto inserire quelle che sono le eccellenze del territorio nazionale. Abbiamo messo delle birre artigianali, del birrificio Due Sorelle, uno spumantizzato millesimato dell'azienda agricola Casere e dei prodotti sia wine che da drink, quindi per poter fare a fine serata degli spritz, dell'azienda Toso. Il tutto chiuso con un ottimo dolce presentato da una delle pasticcerie più in voga qui a Taranto, che è Bar Pasticceria Pandora. In realtà ogni serata è un percorso, è un viogeno gastronomico che vediamo mettere insieme quelli che sono i prodotti di queste aziende ed educare le persone che grazie a Dio stanno intervenendo e stanno nel contempo divertendosi in queste serate al giusto bere e al giusto mangiare. Quindi la nostra mission è quella di appunto presentare questi abbinamenti. E non solo, questi tre appuntamenti, il quarto che ci sarà il 26, sono da volano per degli appuntamenti che faremo durante tutto l'anno nella nostra Taranto.